Una legge ormai approvata in maniera definitiva dal Parlamento diventa adesso operativa ed è un grande segnale, in particolare in un momento in cui la disoccupazione giovanile raggiunge l'apice nel nostro paese è un segnale molto forte che investire sul talento, investire sulla professionalità dei nostri giovani che si sono formati all'estero e che possono tornare dice di una strada che fa guardare positivamente al futuro.